Musica Ben ritrovati per un nuovo appuntamento con l'informazione di TRMH24 La cronaca in apertura durante l'interrogatorio in caserma Luigi Leonetti avrebbe confessato l'omicidio della moglie Lo riporta il suo avvocato stasera la fiaccolata ad Andrea Omicidio volontario, questa l'accusa gravissima sotto la quale è stato sottoposto a fermo nella notte Luigi Leonetti L'uomo di 51 anni di Andrea che nel tardo pomeriggio di martedì ha ucciso a coltellate sua moglie, la 42enne Vincenza Angrisano Leonetti, il re o confesso dell'omicidio, si trova attualmente in carcere mentre sul corpo della donna sarà disposta l'autopsia Stando ad una prima ricostruzione dei fatti operata da parte degli inquirenti, l'omicidio sarebbe avvenuto al culmine dell'ennesima lite coniugale La coppia si trovava in casa, un edificio isolato sulla strada provinciale 231 a 3 km dal centro abitato in compagnia dei due figli di 6 e 11 anni, quando l'uomo avrebbe impugnato un'arma da taglio e aggredito sua moglie con diverse coltellate mortali al torace e all'addome Subito dopo Leonetti avrebbe contattato gli operatori del 118, i quali avrebbe confessato l'accaduto Venite, lo ha ammazzato, avrebbe riferito al centralinista che secondo quanto emerso avrebbe sentito tramite il telefono anche la voce di uno dei due bambini I piccoli sono ora assistiti dagli psicologi del centro del trauma della Aslebat e sono stati affidati ad alcuni parenti Una vicenda, l'ennesima, che lascia sgomenta all'intera comunità, per la quale la sindaca di Andrea, Giovanna Bruno, ha inviato una lettera ai dirigenti scolastici della città La notizia dell'ennesimo femminicidio ci ha sconvolto e ci lascia a toniti, scrive la prima cittadina che chiede l'osservanza di un minuto di silenzio all'inizio delle lezioni a partire da questa mattina e fino al giorno delle seque della 42enne Altre eventuali iniziative prosegue saranno comunicate all'occorrenza Bruno ringrazia intanto i dirigenti per il prezioso lavoro di sensibilizzazione quotidianamente svolto anche sui temi della violenza di genere Omicidi di stampo mafioso di Francesco Barbieri e Nicola De Santis nel quartiere Iapigia di Bari nel 2017 La poellizia ha eseguito otto arresti a Bari, Benevento, Cagliari, Siracusa e Teramo Si riferiscono gli omicidi di Francesco Barbieri e Nicola De Santis commessi nel quartiere Iapigia di Bari il 17 gennaio e il 12 aprile 2017 gli otto arresti eseguiti oggi dalla polizia a Bari, Benevento, Cagliari, Siracusa e Teramo Gli arrestati, tutti pregiudicati, sono accusati anche di tentato omicidio, porto e detenzione di armi da guerra e armi comuni da sparo, favoreggiamento e ricettazione tutti delitti aggravati dal fine di agevolare l'attività del clan Palermiti associazione di tipo mafioso di cui gli otto facevano parte quattro di loro erano già in carcere per altri reati le misure emesse dal GIP di Bari sono state richieste dalla DDA C'era questo spostamento di interessi nella gestione dei traffici stupefacenti sul quartiere Iapigia forse ricorderete nel 2017 ci sono stati tre omicidi e un tentato omicidio nel giro di pochi mesi una sequenza che ha portato ovviamente a una grandissima preoccupazione, grande destabilizzazione e all'espulsione fisica dal quartiere Iapigia di tutti coloro che facevano riferimento alla famiglia di Busco Barbieri la sera del 17 gennaio di quell'anno era a bordo della propria auto quando fu avvicinato da due sicari su uno scooter e colpito a morte con cinque colpi di pistola nei pressi del liceo scientifico Saldemini la vittima, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, era a capo di una prosperosa e ramificata rete di spaccio di cocaina un mese prima dell'omicidio aveva però iniziato a rifornirsi di stupefacenti da un altro gruppo criminale quello riferibile ad Antonio Busco, sempre operativo nel quartiere Iapigia l'omicidio di Barbieri innescò la vendetta del gruppo di Busco il 6 marzo infatti Giuseppe Gelau fu ucciso a colpi di pistola e Antonino Palermiti fu gravemente ferito per l'omicidio di Gelau e il tentato omicidio di Palermiti il 26 ottobre scorso Antonio Busco è stato condannato all'ergastolo con la gravante mafiosa dalla Corte degli Assisti di Bari l'ordinanza cautelare eseguita in data odierna, scrivono gli inquirenti chiude il cerchio investigativo sui tre fatti di sangue attraverso la ricostruzione storica degli eventi e l'individuazione di cause, movente e autori regionali in Basilicata per Pittelle e Pessolano di azione Basilicata non è il momento di tatticismi ma della costruzione di un programma serio e pragmatico per il territorio i due esponenti di azione raccolgono l'appello di PSI di Basilicata in merito all'organizzazione di primarie per un confronto aperto sulle idee e sulla scelta del candidato presidente un nuovo progetto politico che abbia un più ampio respiro e che dia stabilità alla regione con questo obiettivo il consigliere regionale e membro della segreteria nazionale di azione Marcello Pittella e il segretario regionale di azione Basilicata Donato Pessolano raccolgono l'appello lanciato nelle scorse ore dal segretario regionale del Partito Socialista Italiano Livio Valvano in merito all'organizzazione di primarie per un confronto aperto sulle idee e sulla scelta del candidato presidente lo scorso 27 novembre la segreteria regionale del PSI di Basilicata ha preso una posizione decisa contro i continui rinvii del Partito Democratico il tentativo di influenzare le scelte politiche per la Basilicata da Roma è scritto nella nota in risposta i socialisti hanno annunciato l'avvio delle consultazioni con tutti i partiti e le forze civiche senza esclusioni per l'elaborazione di un manifesto basato sui valori radice fondamenti su cui costruire il programma di governo in assenza di primarie la segreteria regionale del PSI ha offerto anche la disponibilità del proprio segretario regionale per la carica di presidente con l'intento di condividere questa scelta con tutte le forze politiche progressiste moderate che aspirano ad una nuova direzione della regione al di là della semplice opposizione al centro-destra gli esponenti lucani di azione concordano con i socialisti di Basilicata non è il tempo delle attese, degli inutili tatticismi ma della costruzione, dichiarano Pittella e Pessolano da cui la necessità di convocare tutte le forze politiche per mettere in campo un programma serio e pragmatico noi pensiamo che serva una nuova traiettoria programmatica, aggiungono Pittella e Pessolano che vada da industria 5.0 alla sanità, dalla transizione energetica alla cura del territorio dalle aree interne allo sviluppo e alle imprese, dal sostegno al futuro del settore automotive alla tutela dell'occupazione nella nota Pittella e Pessolano concludono affermando che dal loro punto di vista le prossime elezioni regionali possono determinare una vera e propria innovazione nel campo politico che vada oltre a siomi ritenuti inutilmente insuperabili e quindi incontro a tutta la comunità lucana senza lasciare nessuno indietro Ritardi nelle prestazioni sanitarie, la FNP CISL attiva due numeri verdi a disposizione degli utenti Due numeri di telefono e un indirizzo e mail a disposizione dei cittadini per provare a compensare il problema dei ritardi nella sanità è l'iniziativa della CISL con uno sguardo particolare per le categorie più fragili come pensionati troppo spesso il diritto alla cura viene negato Oggi una prestazione su due non viene garantita nei tempi previsti dalla legge per cui il cittadino molto spesso si trova costretto a ricorrere al privato pagando la prestazione questa situazione chiaramente determina una condizione di frustrazione perché non tutti possono permettersi di ricorrere al privato pagando Una situazione che si aggrava nelle periferie Penso a chi vive nel quartiere San Paolo, vive ad Anzitetto, vive insomma nelle nostre periferie ha un'aspettativa di vita inferiore di 4-5 anni rispetto ad altri anziani che seppure in condizioni di deprivazione a Bologna, Parma eccetera quindi in quartieri analoghi al San Paolo tuttavia avendo loro in quelle situazioni un accesso alle cure più adeguato hanno un'aspettativa di vita più lunga Stiamo attivando una specie di telefono verde per il quale daremo assistenza per esercitare al meglio questo diritto alle cure perché c'è la possibilità di ovviare alla mancanza di prenotazione attraverso un intervento dell'intramenio o della sanità privata che può essere pagata dalla stessa AUSL 40 nuovi alloggi di edilizia popolare saranno costruiti a Foggia 40 alloggi di edilizia popolare, 28 finanziati dalla Regione Puglia altri 12 realizzati grazie ad un progetto rientrante nel PNRR verranno costruiti alle porte di Foggia in via San Severo Lo faremo nel modo più diligente possibile in termini tecnico strutturali e di sicurezza e lo faremo per una causa giustissima che è quella dell'emergenza abitativa che è angariante per moltissime famiglie di Foggia E' stato dato il via ai lavori nel cantiere a cominciare dalla demolizione del vecchio usito che ospitava i locali dell'ex istituto d'arte con i capannoni annessi In un quartiere, in un pezzo di Foggia che ha bisogno di essere completamente rivisto e qui insiste anche un progetto più grande un PIN in quest'area è un segnale solo di attenzione ma necessario nei confronti di Foggia qui si abbattono dei trattori urbani si utilizzano anche tecniche di progettazione, di costruzione innovative Oltre 4 milioni di investimento per l'impresa di Pino Di Carlo e dei suoi soci con la costruzione che andrà terminata entro il 2026 un primo intervento per far fronte alla tavica richiesta di alloggi popolari che grava su Foggia che da anni soffre di emergenza abitativa A Matera presentati i dettagli del progetto nazionale Sassi in Canto Matera ha ospitato la presentazione nazionale di Sassi in Canto un progetto che fonde la tradizione musicale materana con interpretazioni contemporanee Nell'ambito della rassegna Voci di Terra promossa da Universa Musica e Università degli Studi della Basilicata sono stati illustrati i dettagli del progetto iniziato nel 2010 e frutto della collaborazione tra il maestro D'Ameano D'Ambrosio e i cantori materani Il volume, pubblicato da Squilibi include un cd con le interpretazioni dei brani e si accompagna a nuovi apparati critici e trascrizioni musicali Caterina Pontrandolfo e Patrizia Del Puente hanno contribuito con saggi che esplorano il contesto culturale e linguistico delle canzoni I canti popolari di Matera sono stati registrati nella sua versione nel 2010 Il disco ha avuto una grande fortuna con i cantori materani che hanno rivisitato queste musiche popolari tradizionali in una maniera molto convincente, molto innovativa La presentazione qui in università è molto simbolica e raccoglie le migliori forze intellettuali e artistiche della città intorno alla propria orgogliosa tradizione di canti popolari Un dipinto del 1962 di Luigi Guerricchio, Tetti di Sassi è stato scelto come immagine di copertina simboleggiando il legame tra tradizione e modernità Sansi Canto sarà disponibile per la distribuzione dal nuovo anno e attualmente è reperibile sul sito dell'editore e presso la sede dell'associazione Cantori Materani È stato un lavoro di coordinamento, mettere insieme tante sensibilità, tante professionalità La pubblicazione tende a far conoscere proprio le partiture nella speranza che anche altre corali possano adottare questo straordinario patrimonio canoro, demoetro, antropologico della nostra regione Presentiamo una pubblicazione che è molto interessante perché è pubblicata intanto da una casa editrice, Squilibri che pubblica tutti i canti popolari d'Italia Questa casa editrice sta pubblicando le partiture dei canti popolari materani che io ho elaborato Questi 14 cali canti che ho chiamato sono descritti ad uno ad uno c'è un'analisi delle partiture, insomma ho dato un contributo sia etnomusicologico che poi proprio di analisi musicale È tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci